Sabato alla Casa delle Energie di Arezzo ci sarà un importante incontro promosso anche da Avad sul tema delle medicine non convenzionali e non solo. Di cosa si tratta visto che è anche una tematica molto dibattuta negli ultimi tempi? Sì, è un seminario sulle discipline naturali e del benessere e bio naturali appunto. Sono delle tecniche riconosciute pur non essendo sanitarie ma che tendono a migliorare la qualità della vita. Perché? Perché si tratta di tecniche che agiscono sull'energia ma agiscono soprattutto sul piano culturale, artistico e sempre mirate a quella parte della cura di cui Avad si occupa. Perché Avad dice un malato inguaribile non è per questo incurabile. Ne discuteremo con sposato Yolanda che è un medico pagliativista specialista in medicina tradizionale cinese e agopuntura e con Silvia Peruzzi che è una psicologa esperta in oncologia che si occupa anche di questa parte della cura diciamo rispetto alle proprie emozioni, rispetto ad affrontare la malattia o comunque dei forti disagi.